Lo cercavano da oltre un mese, doveva infatti scontare 5 anni di carcere. Adesso la sua latitanza è finita. A stanarlo ed arrestarlo gli agenti della squadra volanti della Questura di Arezzo, coordinati dal vicequestore Marco Gallorini. I poliziotti, durante un normale controllo del territorio a Salleo, hanno fermato un'auto. Ad insospettire gli agenti il fare nervoso ed insofferente del passeggero, con numerosi precedenti riguardanti in particolare la violazione della normativa sugli stupefacenti. Da qui i controlli più approfonditi, grazie ai quali sono saltati fuori 4 involucri in cellophane termosaldato trasparente, contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre 20 grammi. Accompagnato in Questura, l'uomo è stato sottoposto a foto o segnalamento. Ulteriori accertamenti poi hanno consentito di risalire ad un alias sul quale gravava un ordine di cattura per l'esecuzione della condanna. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di San Benedetto, dove sconterà la pena. È stato anche denunciato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà infine pagare una multa di 4.388 euro.